Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di attivare la campanellina. Si è conclusa da poco, si è conclusa quella che è l'ultima partita prima di Natale, Roma-Napoli hanno vinto i giallorossi 2-0 con gol di Pellegrini e di Lukaku, ma volevo fare una riflessione più che fare un'analisi della partita, anche se poi dirò un paio di cose. Oggi Frosinone, Juventus e Roma-Napoli hanno dimostrato qualcosa che, al di là dei numeri, anche noi a Tele Lombardia spesso guardiamo quella che è la partita in cifre, al di là del valore delle varie rose, diciamo la rosa dell'Inter vale tot, la rosa della Juve vale tot, entra in gioco un fattore molto particolare nel calcio, che non è definibile, non ha un nome, come potremmo dire nella lingua italiana l'empatia, ecco, o come potremmo dire molto più semplicemente i segnali del mondo del calcio. Quante volte abbiamo detto questa partita è un segnale, poi è chiaro che tante volte una partita sola non è sufficiente per dare l'idea di un segnale, mentre una serie di partite sicuramente sì. E direi che quest'anno Juventus-Napoli non è finita con la partita di circa 15-16 giorni fa, adesso non mi ricordo, probabilmente sono 15 giorni fa, due venerdì fa, con la vittoria della Juve per 1-0. Non mi ricordo, ma è andata avanti, perché le due squadre vivono praticamente sugli emisferi opposti. Alla Juve quest'anno stanno girando molte cose bene, e non sto parlando soltanto di fortuna, sto parlando di segnali. L'esempio eclatante è la partita di Monza, dove tu ti arrocchi in difesa come al solito, il Monza trova il colpo, il gancio in mezzo al cielo, come canterebbe un celebre cantautore, e trova il punto dell'1 pari, e sull'azione seguente tu vai a segnare il gol del 2-1. Oppure mi viene in mente la partita col Verona, dove la Juve avrebbe meritato di vincere, ma forse l'anno scorso una partita del genere sarebbe finita 0-0, trovi il gol proprio all'ultimo respiro. Ecco, questi sono i segnali. Dall'altra parte c'è il Napoli, che avrà i suoi problemi. Io sono sempre dell'idea che De Laurentiis abbia buttato via una stagione. Io il Napoli lo davo, non mi vergogno di dirlo, tra le favoritissime, forse unitamente all'Inter, ho sbagliato tutto, ma non prevedevo questo disastro. Ecco, forse De Laurentiis, con un po' troppa superficialità, ha mandato giuntoli alla Juve, pensando di poter fare tutto lui e non sostituendolo degnamente, e con altrettanta superficialità ha chiamato un allenatore che era fuori dal giro importante da un po', perché García allenava in Arabia Saudita, con tutto il rispetto per il campionato arabo. E abbiamo visto i risultati, così come, non potendo arrivare ad Antonio Conte, si è rivolto a Walter Mazzarri, fermo anche lui da due anni. A me piace molto Mazzarri, se ben inteso, però sapete come la penso io, lo dico sempre anche a proposito di Allegri, quando tanti mi ricordano il Palmares o di Murigno, non puoi rimanere fuori dal giro, perché purtroppo il calcio vola più veloce del vento di via col vento, se vogliamo fare un po' un gioco di parole e un gioco di metafore. Quindi tu non puoi pensare che un allenatore che è fuori dal giro da diversi anni riesca a mettere in piedi una situazione già così complicata come quella della formazione partenopea. Nelle varie sfortune direi anche tante decisioni, dubbi, perché questa sera, secondo la mia modestissima opinione, il Napoli non meritava assolutamente di perdere, è ingiusta l'espulsione di Hojimen, che non va nemmeno a toccare il Sharawi, prende la seconda munizione, il VAR non è intervenuto. Al Napoli veramente va tutto storto, io non l'ho seguito ad ogni partita, ma l'ho seguito in diversi match e devo dire che tante volte non ho visto un brutto Napoli, non ho visto un brutto Napoli contro la Juve, si è mangiato quel gol Kvara-Skeliak lamorosamente, che avrebbe potuto cambiare completamente l'inerzia della gara, ma non ho visto un brutto Napoli neanche con l'Inter, ho detto tante volte una vittoria per 3-0, perentoria come quella della formazione nerazzurra, non è discutibile, però al Napoli non ha avuto fortuna e non ha giocato nemmeno così male. E non l'ho visto male nemmeno stasera, devo dire la verità, sembra davvero che giri tutto storto, questo anche un po' per colpa del fatto che De Laurentiis si sia rifiutato di fare un contratto a Tudor che prevedesse anche il rinnovo per la prossima stagione. non so se il Presidente non lo ammetterà mai perché è molto orgoglioso in questo momento si sia pensito e ci abbia ripensato. La Roma va avanti un po' come la Juve, con questo non gioco, per me sono le squadre che giocano peggio nel campionato di Serie A, lo dico anche contro il tifo che faccio per la Juve, meglio che faccio per quella che fu Juventus, io la penso così, in questo momento è un'altra entità, in attesa di tornare Juventus, però in questo momento c'è poco da dire, la Juve i risultati li sta ottenendo anche per via di quei flussi di cui parlavo prima e quindi una squadra che fa 40 punti, fa 40 punti, ecco insomma, poi possiamo discutere come ci sia arrivata, però comunque fa 40 punti. Il Napoli veramente dal lato opposto, a pochissimi punti in classifica, rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions, ma secondo me la classifica è molto più severa di quello che hanno fatto vedere in campo i ragazzi di Walter Mazzarri. Pioli, concludendo questa domenica, e meno male che è Natale, mi verrebbe da dire, sotto esame, in Milan si è dato tempo di riflettere, ha mangiato il panettone, capiremo soltanto ore dopo se questo panettone sarà o meno indigesto. Auguri a tutti di Buon Natale!